io ve l'ho detto che questo a mio parere sarà l'anno del calciomercato per eccellenza e non mi riferisco solo al campionato italiano ma in generale perché a mio parere le trattative gli scambi gli acquisti e le cessioni saranno veramente tante fu così che non si fece calciomercato ciao bella a tutti da me siamo tornati con questo nuovo video ragazzi perché ho letto un articolo veramente molto interessante che mi ha dato qualche spunto sulla juventus del futuro che verrà e da quello che ho letto si capisce perfettamente adesso ve lo andrò ad esporre che la juventus vuole fare per la prossima stagione una vera e propria rivoluzione sia in entrata e sia soprattutto in uscita perché a quanto pare partiranno tanti e tanti giocatori alcuni dei quali pedine importanti quest'anno della juventus che gli permetteranno di monetizzare non poco ma al contempo gli permetteranno di reinvestire quei soldi sul mercato per arrivare a dei giocatori più giovani e sicuramente di una prospettiva ben più elevata allora partiamo dal portiere perché perché già Luigi Buffon sappiamo che per scelta da entrambe le parti quindi non solo da parte del portiere stesso ma anche da parte della dirigenza non sarà più il portiere della juventus per la prossima stagione psg alle porche alle porte però c'è il nodo squalifica champions league che Buffon appunto potrebbe molto probabilmente ricevere si parla di tre giornate ma si parla di un pari san germain che sarebbe tranquillamente disposto ad aspettarlo comunque Buffon che parte e va e va via ovviamente a parametro zero quindi in questo caso la juventus non ci va a monetizzare assolutamente nulla in uscita un altro giocatore stefan liksteiner quindi un difensore destinazione arsenal e so due terzo asamo a che se ne va all'inter ha deciso di non rinnovare con l'inter a mio parere un affarone da parte dell'inter perché non ho mai nascosto il mio il mio apprezzamento proprio per asamo a in quanto lo lo ritengo un terzino all'altezza un terzino che comunque all'occorrenza sa fa praticamente tutto può giocare centrocampo può giocare anche esterno alto c'ha capacità di inserimento c'ha capacità di dribbling c'ha una buona prestanza fisica c'ha tantissime abilità c'ha anche tempi ragazzi perché comunque anche a smistà la palla non è niente male a mio parere l'inter ha fatto poi sotto spalletti sicuramente saprà valorizzarlo e non poco comunque un altro giocatore in meno proprio per la juventus si parla di altre due sessioni una è marchisio che tra alti bassi in infortunio una cosa e un'altra molto probabilmente non resterà a torino la destinazione è ancora da definire ma io credo che un giocatore del genere non troverà difficoltà ad accasarsi in qualche altro club chi lo sa di serie a o magari anche europeo non è finita qua ragazzi perché qui cominciamo con le cessioni importanti che gli potrebbero permettere alla juventus ovviamente di monetizzare per reinvestire sul mercato ma quando parlo di reinvestire sul mercato parlo di acquisti da veramente tanti e tanti soldi ma adesso ci arriviamo con calma alexandro allora molti mi diranno alexandro per lunghi tratti a mio parere è stato uno dei terzini migliori d'europa se non del mondo perché comunque con la juventus qualcosa di importante lo ha dimostrato in questa stagione ci sono stati troppi alti e troppi bassi o meglio non altissimi però comunque situazioni di difficoltà per il giocatore ci sono stati periodi però che ha giocato esterno alto all'occorrenza e qualcosa sicuramente lo ha fatto vedere la juventus sarebbe disposta a sacrificarlo perché comunque non mancano le offerte soprattutto dall'estero e penso che comunque la linea della juventus non sia quella di andare a rafforzare una diretta concorrente bensì di cederlo proprio in ottica estera vale tanto ragazzi perché è ancora abbastanza giovane e c'ha un valore di mercato non indifferente monetizzando anche solo con questo giocatore già la juventus se potrebbe permettere di acquistare un altro top player che sia dello stesso ruolo o che sia di ruolo differente e poi torniamo a quello che ho detto ieri quindi torniamo a parlare di gonzalo iguain ormai ragazzi è inutile che ci giriamo intorno lo ha detto anche nedved quando gli viene fatta una domanda gli viene detto gonzalo iguain lo terrete resterà ancora con voi e tu dici vediamo dopo il mondiale che cosa significa significa che comunque c'è in mente la volontà di andare a svecchiare la rosa perché iguain ha 30 anni e perché magari si potrebbe prendere qualche altra cosa di più alte prospettive perché la juventus sta facendo questo ragionamento perché non vuole arrivare a quello che è successo al milan ossia milan che vinceva dappertutto in italia in europa si è ritrovato con il ritiro contemporaneo dei tantissimi fenomeni e poi purtroppo non è riuscito a sopperire a quel ricambio generazionale che quindi non gli ha permesso di mantenersi ad altissimi livelli questo è proprio quello che vuole fare la juventus una scelta drastica ma che va a abbassare l'età media della formazione perlomeno titolare proprio sin da subito per cercare visto comunque vista comunque la mentalità vincente della juve che ha vinto sette scudetti consecutivi e gli potrebbe permettere di riuscire a sopperire a questi a questi cambi seppur come ripeto drastici ma Higuaín non è l'unico dell'attacco che potrebbe partire si parla anche di Mario Mandzukic Higuaín non ho detto che molto probabilmente l'interesse del Chelsea è elevatissimo perché Sarri praticamente dovrebbe essere a meno che non ci siano ribaltoni incredibili il nuovo allenatore del Chelsea e non ha mai nascosto il fatto che vorrebbe rilavorare proprio con Gonzalo Higuaín perché è uno dei suoi pupilli più importanti torniamo a Mario Mandzukic stesso discorso di Higuaín ragazzi in 31enne mi sa che va pure per i 32 ma non mi ricordo c'è l'interessamento di due squadre una è il Manchester United Mourinho farebbe faville pur di portarlo proprio a Manchester ma anche il Milan sono uscite voci un paio di settimane fa ma comunque sono già insistenti da un bel po' di tempo il Milan avrebbe sondato il terreno per Mandzukic ovviamente per fargli fare la prima punta non per fargli fare quello che gli faceva fare la Juventus perché al Milan manca tra virgolette perché Cudrone secondo me va a sopperire a quella mancanza però c'ha bisogno anche di ricambio gli manca un giocatore di esperienza che comunque sin da subito potrebbe farsi trovare pronto e quindi affrontare un campionato di quelli incredibili non so se Mandzukic sia disposto ad accettare la destinazione Milan o la destinazione United ma una cosa è certa che la Juventus lo vuole proprio cedere e lo ripeto in vista dello svecchiamento della Rosa attenzione perché qua molti storceranno la bocca ma ho letto delle voci di mercato che vorrebbero questo giocatore molto probabilmente o al Real Madrid o al Barcellona ste due squadre sarebbero disposti a fare faville pur di accaparrarselo stiamo parlando di Miralem Pjanic ebbene sì il giocatore che ci hanno levato a noi tifosi della Roma ma che sarebbero disposti a sacrificare perché ci si potrebbe monetizzare addirittura 70 milioni di euro si parla di offerte a rialzo quindi potrebbero anche aumentare le cifre proprio tra Real Madrid e Barcellona che avrebbero bisogno di un centrocampista con quei tempi comunque un centrocampista che ogni calcio di punizione è in gollo quasi e te risolve le partite un centrocampista che puoi utilizzare in fase più avanzata e comunque tecnicamente parlando sa servire assist un centrocampista che utilizzato come vertice basso fa girare la palla che è una meraviglia detta ai tempi del gioco smorza il gioco smorza non pensate a male smorza il gioco quando ce n'è bisogno e comunque cioè siamo parla a livello difensivo non è fortissimo perché non c'ha quelle caratteristiche ma sicuramente se lo affianchi come è successo alla Juventus a un matuidi che te spezza le zampe e poi la differenza te la fanno insieme quindi un giocatore che potrebbe sapersi amalgamare bene con diciamo una petina importante con caratteristiche diverse messa a suo fianco con tutte queste cessioni che comunque non so poche ragazzi sono cessioni abbastanza importanti la Juventus vorrebbe provare a migliorare la propria rosa per il futuro andato ad acquistare giovani e di prospettiva partiamo dal sostituto tra virgolette di Gianluigi Buffon perché il sostituto di Buffon ovviamente è è Scesni stava di Licksteiner scusate è Scesni e però serve un secondo portiere all'altezza chi sarebbe stato cercato in tal senso lo sappiamo perché già ce lo fa aspettate che mi sta a fa male una mano se no veramente mi dia il coso il coccolone però la mano sinistra è quella che ho la tendinite quindi riprendo io mi devo imparare a appoggiare il telefono da qualche parte solo che mi piace più parlare col telefono in mano si parlava appunto di Perin e ci ho fatto già un video a riguardo Perin molto probabilmente accetterà la destinazione accetterà di giocarsi tra virgolette scusate tutte le virgolette il posto da titolare con Scesni perché poi ragazzi mai dire mai nel senso se Perin ti mostra di arrivare di avere uno stato de forma o comunque te fa parate più importanti di Scesni tutto può succedere come dice la Juventus nessuno è titolare chiunque potrebbe potrebbe diventarlo anche da da nuovo arrivato chi arriverà di sicuro e per certo alla Juventus arriverà a Caldara il Caldara che è stato lasciato è già della Juventus dalla scorsa stagione ma è stato lasciato in prestito all'Atalanta proprio per farlo crescere ulteriormente e ragazzi lasciatemi dire che Caldara è cresciuto e non poco perché comunque non solo segna ma fornisce prestazioni importanti sa giocare in difesa ma sa tenere la posizione sa anticipare l'avversario c'ha prestanza fisica c'ha rapidità c'ha tutte qualità che comunque per un giocatore giovane potrebbero fare la differenza nella Juventus del futuro la Juventus del futuro ormai ragazzi Barzagli è quello che è Chiellini cominciava in una certa età Benatia comunque anche se parlava che potrebbe partire ma non credo per quello non l'ho inserito nella lista perché sennò diventa veramente una rivoluzione troppo importante anche perché Benatia ha fatto una stagione importante ed è necessario che resti per far inserire i nuovi arrivati e quindi Caldara potrebbe in tal senso sicuramente essere un rinforzo giovane importante arriverà anche Spinazzola altro giocatore dell'Atalanta è un esterno che potrebbe adattarsi bene a un 3-5-2 ma anche all'occorrenza a un 4-3-3 a un 4-4-2 a un 4-0-7-8 quello che vi pare anche lui anche se tra alti e bassi perché comunque è partito infortunato con l'Atalanta e non ha giocato tante partite poi però cioè ragazzi la classe del giocatore cioè le capacità del giocatore sono sono sicuramente sotto gli occhi di tutti poi e dico poi arriviamo piano piano agli obiettivi questi sono quelli che arriveranno Perin molto probabilmente arriverà Caldaro e Spinazzola arrivano Darmian è un giocatore che la Juventus sta cercando un'alternativa all'Iksteiner che ovviamente partirà sicuramente un giocatore importante Darmian che ha anche esperienza europea e secondo me potrebbe essere il giusto rincalzo poi se la giocherebbe con De Sciglio ma sappiamo anche la linea italiana della Juventus che se proprio deve scegliere degli obiettivi vorrebbe puntare proprio su giocatori italiani credo che sia l'unica squadra italiana che faccia sto ragionamento in tal senso per il resto a parte qualche raro caso nella maggior parte abbiamo tutti i giocatori stranieri e va bene così un altro obiettivo è Arias Arias del PSV però non so fino a che punto possa essere percorribile questa questa alternativa secondo me la prima scelta è proprio Darmian scusate ma mi sta a risalire il caffè ne ho bevuti 5 è stato fatto un sondaggio anche per Cancelo Cancelo è un giocatore che all'Inter sicuramente ha dimostrato il suo valore è un giocatore duttile è un giocatore rapido che può giocare anche esterno alto è un giocatore tecnico è un giocatore fisico e che non resterà sicuramente all'Inter e che la Juventus vorrebbe provare proprio a ad accaparrarselo però per il momento resta resta un sogno molto difficilmente Cancelo io credo che Darmian sia sia la più probabile alternativa ai tre e va bene ma adesso arriviamo al dunque arriviamo alle due bombe dei mercati ah mi sono scordato di una cosa importante ragazzi ossia Sturaro Sturaro dovrebbe partire e dovrebbe rientrare nel piano barra scambio con il Genoa per portare Perin alla Juventus quindi potrebbe partire anche lui mi sono dimenticato l'avevo scritto dietro Milinkovic Savic l'obiettivo numero uno della Juventus e perché dico obiettivo numero uno perché è un giocatore ragazzi per l'età che c'ha e per la tecnica e per il gioco che ha dimostrato sicuramente tra i migliori attualmente al mondo cioè lo ha la Lazio l'ho dito che ha dichiarato lo anno scorso l'anno scorso non l'ho ceduto e potevo farlo a 110 milioni di euro cioè lui ha chiesto 130 milioni di euro la scorsa stagione ne sono arrivati 110 da una squadra non ha detto chi ma probabilmente era il Real Madrid perché mi ricordo che se parlava soprattutto di Real Madrid lui ha rifiutato lo scorso anno quest'anno Milinkovic Savic diciamo che ha fatto una stagione bene o male sui livelli dello scorso anno tra qualche alto e qualche basso però comunque il valore del giocatore con i prezzi che ci stanno attualmente sicuramente è un valore elevatissimo Juventus che potrebbe anche qualora dovesse riuscire a cede e Pjanic e Mandzukic e Higuain e Alexandro e quant'altro potrebbe decidere proprio di provare a fare questo questo affondo un affondo abbastanza importante perché comunque 130 milioni di euro non sono spicci sono parecchi soldi e quindi chi lo sa se alla fine la Juventus riuscirà a fare questa operazione però secondo me se vuoi investire sul futuro e se vuoi provare a fare cose importantissime non puoi non prescindere da un certo Milinkovic Savic soprattutto se te parte un Miralem Pjanic a centrocampo da cui potresti monetizzare solo con lui 70 milioni di euro non ci dimentichiamo che comunque Higuain la Juventus ha pagato quasi 100 milioni di euro e non credo avrebbe difficoltà a cacciarne 130 proprio in vista di tutti i soldi che gli entreranno non voglio essere troppo ripetitivo perché la questione attaccanti ne ho già parlato in un altro video ragazzi che cosa ho detto in un altro video ne ho parlato ieri ho parlato della possibilità per la Juventus di sostituire Gonzalo Higuain con due giocatori uno è Cavani e l'altro chi cavolo era il ritorno di Alvaro Morata ma per questo vi rimando ad un video ragazzi in alto a destra trovate la id info e trovate proprio quello che ho detto non voglio essere ripetitivo perché l'ho detto ieri quindi che cosa ne pensate di questa rivoluzione della Juventus alla fine dei fatti si verificherà ah e poi arriva pure Emre Can mi sono scordato di dirlo che comunque un centrocampista giovane è sicuramente importante che potrebbe andare ad inserirsi in un contesto già ben rodato e secondo me figurerà bene e non poco quindi che cosa ne pensate di questa rivoluzione della Juventus fanno bene a fare questa come si dice sorta di svecchiamento drastico della Rosa tutto insieme a mio parere fanno bene perché sennò poi male nel senso che magari poi per noi per chi ti fa Roma Napoli ok non è una buona cosa però in termini futuri magari avranno difficoltà adesso subito nel breve periodo a far adattare tutti i nuovi arrivati ma poi potrebbero amalgamare la situazione quindi vi chiedo il vostro parere per me appunto il vostro parere è molto importante quindi commentate ditemi la vostra perché io sapete leggo tutti i commenti e metto cuori praticamente a tutti lasciate un bel mi piace su questo video per tanti nuovi contenuti del genere commentate condividete iscrivetevi al canale attivate la campanella a fianco al tasto iscriviti per ricevere le feed dei miei video in alternativa seguitemi su instagram Gaboman7 pubblico le stories con i video che pubblico oppure su telegram applicazione dei messaggistica ragazzi vi mando direttamente il messaggino con il video pubblicato di volta in volta quindi in quel caso non ve ne perdete manco mezzo detto questo vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video spero che il contenuto vi sia piaciuto chiedo scusa se mi sono dilungato ma ragazzi c'è da parlare parecchio quando c'è da parlare io parlo perché se no che stiamo a fare qua non si possono fare sempre i video di 10 11 6 4 minuti questi sono 17 vabbè bella